I sindaci non si sottraggono, ma i controlli spettano a prefetti e forze dell'ordine. Siamo certi che il governo chiarirà. E' fiducioso il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci che considera il nuovo DPCM un decreto equilibrato. Il potere conferito in un primo momento ai sindaci che potevano disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, dopo alcune ore dall'annuncio di Conte già scomparso. La polemica l'aveva sollevata Antonio De Caro, sindaco di Bari e presidente del Lanci, che aveva accusato il governo di scaricare la responsabilità del coprifuoco sui sindaci. Termine che è stato poi eliminato dal decreto. Netta la posizione del sindaco Matteo Ricci che fa sapere di valutare assieme al prefetto le zone della Movida in cui saranno rafforzati i controlli. Per ciò che riguarda le piazze noi non abbiamo problemi come sindaci a individuare quali sono i luoghi sensibili agli assembramenti. Penso a Pesaro, mi vengono in mente le zone del centro, di Baia Flaminia. Il punto vero è chi garantisce i controlli e quindi la discussione che stiamo avendo con il governo è su questo. Noi possiamo individuare i luoghi più sensibili per gli assembramenti, per evitare assembramenti, ma poi sta alle forze dell'ordine dei prefetti organizzare la vigilanza perché noi con le polizie municipali non ce la possiamo fare. Grazie.